Il freddo ha un impatto negativo sulle malattie cardiovascolari. Negli ultimi giorni presso la cardiologia di Piacenza si è registrato un boom di accessi. Solo stamattina si sono verificati ben quattro infarti da gestire, una situazione anomala dovuta al brusco calo delle temperature. Il cambiamento delle condizioni climatiche, soprattutto così estreme come le basse temperature, adesso anche la neve, ha portato ad un incremento dell'incidenza di patologie cardiovascolari acute, in modo particolare di infarti e di arresti cardiaci. È un dato noto che le temperature basse possono provocare destabilizzazione clinica nei pazienti cardiopatici, per cui il consiglio è di avere molta attenzione, rimanere aderente alla terapia medica. Anche l'attività fisica all'aperto è altamente sconsigliata, così come spalare la neve e fare sforzi improvvisi. Evitare l'esposizione in condizioni climatiche estreme, quindi fare attività fisica al freddo, anche perché questo sia nei pazienti più anziani, ma soprattutto nei pazienti giovani, come abbiamo visto ultimamente, può essere associata alla comparsa di patologie acute non prevedibili e che il paziente considera talora non correlato a problemi cardiologici, perché non ha mai avuto niente. Il paziente della neve è la classica attività da Superman, uno che non ha mai fatto niente tutto l'anno e che poi aspetta che ci sia molto freddo per fare il forzuto, ma poi tra loro ci può lasciare le pelle. L'azienda sanitaria è comunque pronta ad affrontare i disagi dovuti a neve e ghiacci, in allerta soprattutto la struttura dell'emergenza urgenza. La direzione raccomanda ai cittadini la massima cautela per evitare, per quanto possibile, il rischio di scivolamenti e cadute. Sono soprattutto le persone anziane a correre rischi maggiori. Il mio timore è che abbassandosi le temperature e col gelo si possa cadere e riportare traumi. Quindi gli anziani, tutti coloro che hanno problemi di equilibrio, ma soprattutto mi riferisco alle fasce di età più avanzata, il consiglio forte è di stare in casa per tutto questo lungo fine settimana per evitare cadute, perché in quella fascia di età le cadute sono spesso situazioni importanti. ASL fa sapere anche che non verrà applicata la sanzione amministrativa prevista per chi non si presenta a una visita. Oggi, domani e anche sabato non verranno poi attivate eventuali sanzioni amministrative a chi non riesce ad arrivare negli ambulatori. Per cui la raccomandazione è che chi ritiene di avere difficoltà per le condizioni della strada piuttosto che per la propria personale capacità di movimento, stia a casa e non abbia paura da questo punto di vista. Allora, asol.